Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come creare una pagina su Facebook Iniziamo subito Clicchiamo sul triangolino accanto al punto di domanda sopra in alto Clicchiamo ora su Crea pagina Possiamo scegliere tra creare una pagina per un negozio oppure per una community di qualche cosa sportiva o di un sito o di un blog Per ora facciamo quello di un negozio Mettiamo qua il nome del negozio che vogliamo mettere In questo caso io scriverò negozio di bolle di sapone Poi dovremmo mettere e scegliere una categoria adatta al nostro negozio Infatti in questo caso io ho scelto negozio per prodotti per la casa Ora mettiamo l'indirizzo dove abbiamo il nostro negozio Vi ricordo che questo qui è solo un esempio Dunque non sono dati reali Permettiamo una città dove si trova il negozio E il codice di avviamento postale E andiamo avanti Ora in questa pagina ci dirà di mettere un'immagine sul profilo del negozio Carichiamo Ora qua ci dirà un'immagine di copertina per sempre per il negozio Qua conviene mettere direttamente la scritta del nostro negozio O un'insegna o un'immagine di sfondo Mi sa che qua non ha caricato Ora riproviamo di nuovo a caricare la copertina Clicchiamo su carica foto e video Ok Ora posizioniamo la nostra immagine di copertina E poi una volta posizionato Clicchiamo su salva Se vi è piaciuto questo video Registratevi sul mio canale Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.